Ehi, hai già tutto a posto? Tutto a posto Che cos'è? Mi sono comprato un termos Termos? Utilissimo Che fai? Se tu metti dentro una cosa ghiacciata mantieni ghiacciata oppure se metti una cosa bollente rimane bollente e non apri che è pieno che hai messo? E ho messo un bel caffè bollente e un ghiacciolo Prima ho preso il caffè che ho messo stamattina bollente sapevi di menta ma non ho capito perché 15 euro